Parliamo di resistenze montate in serie, cioè attraversate dalla stessa corrente, questo nell'esempio. Due resistenze montate una dopo l'altra, la corrente I che attraversa R1 necessariamente attraverserà anche R2. Queste due resistenze saranno equivalenti ad un'unica resistenza il cui valore dobbiamo determinare. Io so che da questo schema delta V a C, cioè la differenza di potenziale tra A e C, sarà uguale alla resistenza equivalente per I dalla prima legge di Ohm. Ma da questo schema so che la differenza di potenziale tra A e C sarà uguale alla differenza di potenziale tra A e B, più la differenza di potenziale tra B e C, ovviamente uguale alla resistenza equivalente per I da questa equazione. Ma la differenza di potenziale tra A e B per la prima legge di Ohm sarà uguale a questa resistenza per l'intensità che la attraversa. Quindi R1 per I più R2 per I sarà uguale alla resistenza equivalente per I. Semplificando I avrò che la resistenza equivalente di due resistenze montate in serie sarà la somma delle resistenze.